Un saluto a tutti Ciao a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiozzlarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo con la prima notizia perché uno dei settori più colpiti dall'inizio di questa pandemia è sicuramente quello relativo al turismo. Su questo fronte, il Comune di Vallefoglia ha in progetto di costruire dei percorsi cicloturistici sul territorio per aumentare la promozione e valorizzare tutti i beni naturalistici. Noi pensiamo al turismo come uno dei settori dell'economia pur essendo una città industriale attraverso dei percorsi, cinque percorsi nel paesaggio, nell'ambiente ciclo diciamo ciclabili con bici da cross ovviamente e pensiamo e presenteremo a breve, tra qualche mese, una mesata, poco più anche un portale turistico, un luogo turistico. Stiamo anche diciamo lavorando su una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia. quindi questo binomio ambiente, storia, cultura, paesaggio, diciamo gli aspetti floristici, faunistici che sono un unicum in questo territorio che è rimasto integro nella parte alta dove non ci sono le fabbriche perché insomma questa è una città industriale e quindi pensiamo che sia un'ottima cosa anzi se ci riusciamo insieme ai comuni di Urbino, di Petriano, di Isola del Piano e con la provincia di fare anche una segnalettica di questi percorsi cicloturistici e quindi diciamo dare importanza a tutto questo che è diciamo la parte più importante dal punto di vista delle radici storiche di questa città che sono importanti perché hanno tutti i personaggi di caratura nazionale ed è veramente un territorio molto importante insomma cito solo per non far torta a nessuno col Delce che è un luogo meraviglioso ma insomma tutta la parte dei tre castelli Montefabri, Colbordolo, Sant'Angelo in Lissola, Magia in Estreto, Monte Cicardo, Montbarocci insomma parafrasando Trappeso e Urbino insomma c'è tanta di quella roba dal punto di vista storico e culturale, ambientale e paesaggistico e no gastronomico perché si mangia da Dio in tutti questi luoghi quindi pensiamo insomma che nel giro di qualche mese, due o tre mesi massimo dovremmo avere tutti questi percorsi e essere punto d'attrazione importante anche per i turisti che ruotano nel centro Italia ovviamente se riusciamo, insisto sempre su questo, ad evitare nella maniera più assoluta assembramenti perché noi siamo circondati dalle zone rosse che sono Ancona, Perugia, ahimè, anche Riminese e quindi noi vorremmo, come ho detto scherzando ma la verità si dice sempre scherzando vorremmo tornare zona bianca come è la Sardegna, dipende dai cittadini, dipende da ognuno di noi se non facciamo assembramenti, se manteniamo le distanze e se teniamo le mascherine in attesa dei vaccini noi potremmo avere contagi zero noi siamo circa 50 contagi che sono una percentuale molto bassa però insomma ecco anche nelle attività cicloturistiche e no gastronomiche stiamo pure attenti insomma e a poco più di un mese dalla sua uscita ufficiale, quella delle 4 di febbraio il libro di poesia e l'ombra di una stella è già ufficialmente sold out l'autrice, Yvonne Pagliari, cittadina di Vallefoglia si racconta come è nato il libro e il forte messaggio che vuole trasmettere vediamo il servizio il libro nasce dopo l'esperienza della malattia quindi nasce dopo l'esperienza del cancro al seno ed è una raccolta di poesie che non parlano solo ed esclusivamente di questa tematica della malattia ma che raccolgono in loro, in tutte le loro diciamo messaggi raccolgono la visione di una donna e la visione della donna è come lei vede questa vita prima e dopo la sua malattia ma la vita che vedo io attraverso il mio filtro è comunque la vita che vedo anche nelle altre donne quindi racconto le donne le donne innamorate le donne amate le donne rifiutate le donne ammalate le donne guarite ed è proprio un libro scritto da una donna per le donne un libro che porta un messaggio importantissimo e che ha avuto comunque un grande riscontro da parte del pubblico sì perché diciamo che il fulcro di questo libro è appunto una nicchia diciamo una donna che scrive per le donne e parliamo di donne coraggiose io parlo di donne forti non per questo di donne aggressive o di donne guerriere in termini negativi ma di donne che lottano per un motivo per un obiettivo senza calpestare nessuno ma solamente riconoscendo nella propria femminilità nel cambiamento e nel rifiorire questo messaggio profondo il rispetto della donna per se stessa e anche nella società insomma poco più di un mese esatto dalla sua uscita com'è andata? eh siamo stati sorpresi sia io che l'editore se posso dire il nome la casa editrice Aletti siamo stati molto sorpresi perché il libro è già in ristampa perché è andato esaurito è un libro che si legge molto bene la poesia oggi non è la poesia di stanchezza la poesia di tristezza la mia poesia è una poesia che parla veramente a tutte le persone di tutti i livelli culturali e quindi il libro è piaciuto e io sono contenta ed è in ristampa ad oggi quindi a breve ci sarà la nuova disponibilità ultimissima cosa chiudiamo con un messaggio a tutte le donne in vista anche dell'8 marzo vorrei fare i miei auguri ovviamente a tutte le donne che mi stanno guardando a tutte le donne che lavorano a TV Rossini anche e festeggiate con una bella mimosa e con l'ombra di una stella auguri a tutte le donne e nell'ottica di una sempre più imminente digitalizzazione della pubblica amministrazione il Comune di Vallefoglia ha comunicato di avere in programma di attivare un sistema informatico che consentirà ai cittadini di stampare da remoto i certificati anagrafici e di stato civile con la stessa validità giuridica di quelli rilasciati allo sportello selezionandoli da una lista stabilita dall'ufficio dei servizi demografici per venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini e delle imprese inoltre l'amministrazione si sta adoperando per accelerare l'ultimazione dei lavori di copertura del territorio comunale con la banda ultralarga che al suo completamento porterà notevoli benefici soprattutto in questo determinato periodo e nella fantastica cornice dell'antico mulino di Pontevecchio Vallefoglia sorge il Museo della Mezzadria nato per ricostruire la storia della prima metà delle Novecento e farla conoscere alle nuove generazioni il museo raccoglie una ricca collezione di reperti il gestore Adriano Campanari ci racconta in questa intervista come è nata l'idea l'idea è nata tanti anni fa quando fui eletto negli organi scolastici per la componente genitori io dei temi della scuola non me ne intendevo allora e ancora compiutamente non me ne intendo oggi siccome sono una persona che quando assumo un incarico o nel bene o nel male voglio esprimere qualcosa mi sono abbonato alla riforma della scuola la rivista riforma della scuola ebbene tramite questa rivista sono venuto a conoscenza che nel nord d'Italia stavano costituendo i musei della cosiddetta civiltà contadina mi sono detto ma io vivo in campagna quindi se io intraprendo un'iniziativa di raccolta degli utensili agricoli non mi sarà difficile e mi sono messo alla ricerca e alla raccolta di questi attrezzi agricoli purtroppo le visite al museo non sono frequenti e questo ci sarebbe bisogno di una premessa molto ampia che non posso farla telefonicamente ma tutto quello e allargo anche la cerchia degli eventuali visitatori tutto quello che pussa di stalla che i contadini portano è tenuta in lontananza dalla stragrande maggioranza dei cittadini per il resto il museo racconta la storia del lavoro lei ha mai visto su un depliant turistico una fabbrica da visitare? io non l'ho mai incontrato io e vista quindi praticamente c'è tutto da una formazione culturale che non si basa tanto sui lavori ma soprattutto sulle pinacoteche sculture archeologia questo è senz'altro da visitare e da apprezzare ma credo che sia importante includere in queste visite anche le collezioni e i musei che raccontano la storia del lavoro e da qualche giorno il Comune di Montellabate ha affidato il nuovo ruolo di Assessore all'Ambiente a Pierluigi Ferraro dopo i cambiamenti avvenuti nella Giunta Comunale noi abbiamo intervistato il nuovo Assessore che ci ha parlato delle sue sensazioni dopo la nomina e dei suoi primi progetti futuri sicuramente felice felice di questo incarico di questo nuovo incarico io sono anche il collaboratore della consigliera regionale Marta Ruggeri di Fano e quindi insomma questo è un altro è un altro un altro tipo di collaborazione che posso fare oltre che con il consiglio regionale adesso anche con un consiglio comunale in questo caso a 5 Stelle della sindaca Cinziaferri allora da neoassessore ci ho tenuto che si facesse questa intervista in questo luogo perché semplicemente perché qui siamo al confine ora all'inizio qualcuno ha detto beh la sindaca ha deciso di prendere un assessore da fuori no in realtà io sono molto più vicino di quello che uno può pensare perché qua in questo luogo siamo esattamente al confine fra Monte Labate Pesero ma anche Urbino i primi obiettivi del suo nuovo incarico beh sicuramente la sindaca e il vice sindaco Luca Farroni mi hanno chiamato in particolar modo per seguire la questione insomma dei rifiuti è una cosa che loro ci tengono molto hanno intenzione di portare avanti alcuni progetti su questo tema e quindi io mi dovrò interfacciare tanto con ATA che ricordo che è l'assemblea di tutti i sindaci che si riuniscono quando parlano di rifiuti sia con Marche Multiservizi che il gestore dei rifiuti del comune di Monte Labate ma in realtà di tutta la di quasi tutta la provincia di Pesero Rubino e quindi io mi interfaccerò con loro un argomento di cui si parla molto in questo periodo è quello del biodigestore che interessa la vicina Vallefoglia a Monte Labate e le sue considerazioni merito da neoassessore all'ambiente allora beh sul biodigestore se ne stanno dicendo tante il Movimento 5 Stelle ha prodotto uno documento programmatico il Movimento 5 Stelle a livello provinciale quindi della provincia di Pesero Rubino dove praticamente insomma in particolar modo la consigliera regionale Marta Ruggeri ha voluto che ci si sedesse tutti tutti i gruppi della provincia di Pesero Rubino del Movimento 5 Stelle attorno a un tavolo per capire insomma quali erano le intenzioni riguardo questa tematica così importante io personalmente sono favorevole a un biodigestore industriale non mi interessa se parliamo di biodigestore industriale non mi interessa la tecnologia si parla dell'anaerobico si parla dell'aerobico non mi faccio trascinare dietro questo argomento l'importante però una cosa è che deve essere un biodigestore dimensionato e non sovradimensionato come viene proposto da più parti e in particolar modo dimensionato riguardo a che cosa riguardo ad una legge regionale del 2020 che parla dei compostori di prossimità bene quindi un biodigestore industriale in concomitanza assieme affiancato da biodigestori di prossimità può avere un senso un solo un solo biodigestore industriale che deve coprire il fabbisogno dell'intera provincia addirittura anche di fuori regione beh a questo io dico no e come anticipato poco fa dall'eneo assessora all'ambiente di Montelabate Pierluigi Ferraro sulle tema biodigestore il Movimento 5 Stelle con la consigliera regionale Marta Ruggeri ha portato in consiglio la problematica relativa al dimensionamento troppo grande di questo tipo di impianti per le relative zone il contenuto della mozione respinta dal centrodestra ci viene spiegato nel dettaglio in questa intervista il centrodestra ha predisposto una mozione che andava a sospendere l'iter dell'autorizzativo per il biodigestore di Force che si trova ad Ascoli Piceno quindi noi abbiamo colto la palla al balzo per associare a quella mozione un ordine del giorno per sospendere tutti gli iter per i biodigestori che si trovino nella stessa situazione di Force perché secondo noi è giusto che la regione usi lo stesso metro di giudizio per tutti i territori quindi non usi assolutamente due pesi due misure ci aspettavamo sinceramente che fosse accolta positivamente visto che proprio abbiamo ripreso esattamente le stesse parole utilizzate nella mozione del centrodestra quella del centrodestra è stata approvata questa qui che avrebbe riguardato anche naturalmente la nostra provincia invece è stata respinta con un parere negativo da parte dell'assessore Aguzzi che ha detto che il dispositivo non lo convinceva troppo quindi a quel punto ho detto se non trova la sua condivisione il nostro dispositivo che è uguale al vostro bisognerà avere dei dubbi anche sulla mozione insomma bisognerebbe avere dei dubbi anche sulla mozione del centrodestra capitolo biodigestore si è parlato di quello di Force ma si sta parlando ormai da diversi mesi di quello di Vallefoglia soprattutto per la provincia di Pesaro Urbino un biodigestore anche di grandi dimensioni da 105.000 tonnellate il pensiero anche del Movimento 5 Stelle su questo aspetto guardi io sono stata una delle prime a parlare del biodigestore quando ero in campagna elettorale per le amministrative di due anni fa all'epoca si riteneva che fanno avrebbe dovuto ospitarlo insomma quindi contrariamente ai miei competitor io proprio nel mio programma elettorale avevo inserito una parte proprio sul biodigestore perché noi come Movimento 5 Stelle crediamo nell'economia circolare quindi gli impianti sono necessari e all'epoca avevamo individuato dei paletti naturalmente per poter prevedere che nascessero dei biodigestori nel nostro territorio paletti che poi sono stati condivisi anche dal Movimento provinciale quindi sono diventati nel tempo i baluardi della nostra azione politica quindi sicuramente non bisogna consumare suolo all'epoca io avevo parlato della discarica di Monteschiantello che si trova nel territorio comunale di Fano non bisogna che sia informata e che sia una scelta partecipata dalla popolazione purtroppo questo non sta avvenendo tant'è che sta nascendo un fortissimo dissenso anche da parte dei comitati dei cittadini di Vallefoglia non deve assolutamente essere sovradimensionato invece noi pensiamo che il biodigestore che vuole realizzare Green Factory è di 105.000 tonnellate tra l'altro esiste nel nostro territorio anche un'altra richiesta parlo del progetto di Feroglia che si dovrebbe realizzare a Barchi di 70.000 tonnellate quindi capiamo bene che praticamente già soli questi due impianti coprirebbero i due terzi dell'intero fabbisogno regionale quindi siccome ci sono degli incentivi statali stanno nascendo a libero mercato quindi senza una regia pubblica richieste di costruire questi biodigestori ma non è pensabile che ci siano abbastanza rifiuti nei nostri territori per alimentarli quindi la cosa che ci preoccupa qual è? Che i rifiuti devono essere importati da fuori regione quindi sicuramente stop al sovradimensionamento invece il progetto di cui lei mi ha chiesto è almeno il doppio del nostro fabbisogno provinciale l'altra questione molto delicata è che questi impianti costruiti e gestiti a libero mercato non hanno un controllo analogo un controllo del pubblico quindi noi abbiamo insistito tantissimo perché ASET entrasse con quote maggioritarie all'interno di questa società e come lei sa benissimo dalla stampa è già in atto una grossa polemica tra il comune di Fano ASET e marche multiservizi no è proprio questione di strettissima attualità e quindi la situazione non è rosea noi siamo contrari a questo tipo di progetto non ai biodigestori in generale che ripeto sono assolutamente necessari e ora concludiamo parlando di sport due partite e due successi nei pochi giorni per la megabox Vallefoglia la squadra di coach Fabio Bonafede ha esordito nelle migliori dei modi domenica nella fase della polo e promozione vincendo con un secco 3-7-0 contro Mondovì non solo questo successo però la megabox infatti nella giornata di giovedì ha vinto il quarto di finale di Coppa Italia e si è guadagnata l'accesso alla semifinale alle termine di un incontro combattutissimo di oltre due ore le Tigri hanno superato un indomabile Sigel e Marsala rimontando dalla 0-2 strappando con le unghie la qualificazione alla semifinale in programma le palla Dionigi mercoledì prossimo il 10 di marzo contro la Balducci e siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine io vi ringrazio sempre per essere stati con noi qua su Rossini TV vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo le 12 di marzo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti